Passaci la storia sulla pannocchia Sto facendo il video Dai dai che è successo con la pannocchia? C'erano due signore e due vecchiacce che sono attraversati e mi hanno attraversato come un fantasma e hanno chiesto quattro pannocchie a testa poi il signore accanto a me pure è passato dopo Asciugati qua e praticamente però chiesto una pannocchia è arrivata una ragazza e mi diceva no scusa vedi che ci sono prima io e la signora accanto a me e fa senti tu gioia vedi che ci eravamo prima noi ma io ero un re della staficchiola e ci sono prima io a me non mi interessa questa è una signora stai vedere sono ripresa di cuore il re della pannocchia il re della pannocchia ma quindi in sostanza questa storia mettiamoci di qua facciamo la fila di cuore in sostanza mister pannocchia questa storia ha avuto un lieto fine vedo insomma un lieto fine giusto? almeno ci siamo riusciti vabbè allora ci vediamo alla prossima pannocchia un saluto un saluto dico ciao ci ritroviamo su internet ciao